Nuovo step della campagna vaccinale. 30.000 abruzzesi da lunedì potranno ricevere la terza dose del vaccino anti-covid. Secondo la stima della regione è questa la platea di persone che potranno ricevere questo ulteriore richiamo. Si tratta dei soggetti più fragili, trapiantati, idealizzati, soggetti con immunodeficienze primarie o secondarie, coloro affetti da HIV. Poi toccherà agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani, al personale sanitario e sociosanitario proseguendo nell'ordine delle precedenti somministrazioni. I vaccini a disposizione saranno quelli a RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna, che saranno somministrati anche a chi nei mesi scorsi ha ricevuto altri tipi di vaccino. Non occorrerà prenotazione ma saranno le quattro ASL a contattare chi potrà vaccinarsi. La terza dose è stata autorizzata dal Comitato Tecnico Scientifico contro il parere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS infatti si è espressa chiaramente contro la terza dose nei paesi ricchi. Bisogna dare priorità ai paesi non ancora immunizzati, fanno sapere i vertici mondiali della sanità, altrimenti si favorisce lo sviluppo di nuove varianti. Le 50 nazioni più povere infatti costituiscono il 20% della popolazione ma hanno ricevuto solo il 2% dei vaccini. Ad ogni modo anche in Italia si partirà presto con la terza dose e il vaccino non è ancora obbligatorio ma senza la somministrazione sia esclusi dalla vita sociale, culturale e produttiva. Da metà ottobre infatti il Green Pass sarà necessario per accedere a qualsiasi luogo di lavoro, sia pubblico che privato. Basterà una dose per ricevere immediatamente il certificato verde e chi non si adatterà incorrerà in sospensioni e multe fino a 1.500 euro. Il Super Green Pass è stato deciso due giorni fa dal Consiglio dei Ministri. I ministri lo hanno approvato all'unanimità, compresi quelli della Lega, che hanno deciso quindi di abbandonare la battaglia contro il passaporto vaccinale, alleviando le tensioni, almeno su questo, all'interno della maggioranza. In Abruzzo sono circa 200.000 le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Tra questi però sono compresi anche coloro non idonei alla vaccinazione o che hanno contratto il Covid recentemente.